Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Se vi ricordate qualche giorno fa vi ho proposto un piatto di verdure tipico abruzzese, il ciabotto. E quando presentai quel piatto vi dissi che era un po' la versione italiana facilitata rispetto alla ratatouille francese. Da lì ho avuto l'idea di presentarvi questo piatto francese che comunque è a base di verdure, però diciamo va preparato con un procedimento diverso. Io per di più, come al solito, applicherò qualche piccola variante, qualche piccola modifica. Quindi non ci resta che andare a preparare questo magnifico piatto insieme. Cominciamo dalle verdure. Un peperone verde, un peperone giallo, un peperone rosso, zucchine, melanzane, pomodori, basilico, un pochino di sedano bianco, carota, cipolla. Questi sono gli ingredienti che sono nella ricetta originale. Ciò che non troverete nella ricetta originale, ma che noi oggi andremo a mettere, saranno le patate. Iniziamo, prima di tutto, a portare i nostri, in questo caso, peperoni, in forno, perché li dovremo lasciare appassire e spellare. Una volta messi i peperoni in forno, così che guadagniamo tempo, vi elenco velocemente gli altri ingredienti. Semplicemente sale, olio extravergine d'oliva, un pochino di pepe, il pepe è sempre un optional, una buona passata di pomodoro, e poi qui vedete un mix di erbe di Provenza. Io sono riuscita a trovarle anche qui in Italia, però se non doveste trovarle, potete scegliere delle erbette essiccate. Intanto per iniziare, io vado a tagliare finemente la cipolla, la carota e il sedano. Come potete vedere, ho tagliato finemente la cipolla e la carota. Nel frattempo, diciamo che i peperoni si sono appassiti sufficientemente in forno, quindi in un tegame vado a mettere una generosa quantità di olio extravergine d'oliva e lo porto sul gas a scaldare. E ora vado a mettere le mie verdurine proprio all'interno di questo olio e le lascio andare così per 4-5 minuti. Nel frattempo, le listarelle di peperoni, che si stavano comunque raffreddando, già spellate, io le vado a tagliuzzare. Ecco, anche i peperoni sono pronti. Quindi, torniamo sul gas, perché andiamo ad aggiungere i peperoni alla nostra mercois di verdurine. Lasciamo andare per un paio di minuti. Ora è il momento di aggiungere la salsa di pomodoro. E andiamo immediatamente ad aggiustare, non ad aggiustare, a salare e a pepare, perché fino a questo momento non abbiamo usato né sale, tantomeno pepe. Il pepe, come al solito, io lo macino al momento. A questo punto noi lasciamo andare una decina di minuti, per una decina di minuti con un fuoco moderato. Se volete potete mettere il coperchio, io lo lascio assolutamente così, per 10 minuti. E nel frattempo torniamo sul piano di lavoro, dove andiamo a tagliare tutte le nostre verdure a rondelle. Iniziamo dalle zucchine, togliamo le estremità e andiamo a realizzare delle fette spesse più o meno, guardate, sui 3-4 mm. Facciamo la stessa cosa per le patate, per i pomodori e per le melanzane. Noi per il momento ci siamo, quindi andiamo a riprendere la casseruola dal fuoco, perché la salsa è pronta. La posto direttamente sul piano di lavoro. Ecco qui la nostra salsa, magnifica. Ora vi faccio vedere la densità, aspettate che tengo fermo il tegame. Guardate, vedete come senza? Profumatissima. Soltanto a questo punto io vado a spezzettare all'interno il basilico fresco. Lo faccio lontano dalla fiamma. E ora cominciamo a comporre la nostra ratatouille. Allora, vado a disporre sul fondo della mia pirofila tutta la salsina che abbiamo preparato. Vado a creare un fondo spesso almeno 2 cm. Ed ora, su questo meraviglioso fondo, noi cominciamo la composizione del nostro piatto. Quindi, iniziamo melanzana, zucchina, patata, pomodoro e si riparte. Melanzana, zucchina, patata, pomodoro e così tutto, tutto, tutto intorno. Mi raccomando, mantenete il ritmo perché servirà poi alla fine per l'effetto cromatico. Vedete, io ho finito il primo giro e ora, nella parte centrale, sto iniziando il giro al contrario, seguendo però, rispettando sempre il ritmo delle verdure che abbiamo utilizzato. Quindi parto sempre dalla melanzana, la zucchina, la patata e il pomodoro. Al contrario, e vado a chiudere. Vi sollevo la teglia e vi faccio vedere l'effetto finale. A questo punto dobbiamo mettere sale, perché sulle verdure che abbiamo affettato non ne abbiamo ancora messo. Io metto una macinatina di pepe, le mie erbette di Provenza e un bel filo d'olio a giro su tutte le mie verdure. Ora siamo pronti per andare in forno. Metterò la teglia in forno a 200 gradi proprio e la lascerò andare coperta con carta da forno per 15 minuti. Dopo 15 minuti le verdure saranno ben ammorbidite. Andrò a togliere la carta da forno e gli darò ancora 10, massimo 15 minuti di cottura a 200-220 gradi completamente scoperte. Guardate la nostra ratatouille appena uscita dal forno, guardate che meraviglia. Vedete quando vi ho detto, vi ho chiesto prima, non gli fate cambiare colore. Le verdure sono perfettamente cotte, sono molto morbide, perfettamente cotte, ma non gli abbiamo fatto cambiare colore. A finire, prima di portarla in tavola, un pochino così di basilico in foglie. E la nostra ratatouille è pronta. Bene, anche per oggi è tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video e condividere le mie videoricette sui vostri social. Se questo video vi è piaciuto e se questa ricetta vi è piaciuta, aspetto un vostro like. Un grande abbraccio a tutti voi da vita.